Siamo nel 2022, dal primo di questo mese i pagamenti per contanti potranno essere effettuati per un massimo di 999,99 euro. Dai 1.000 euro in poi i pagamenti dovranno essere necessariamente tracciati. Per i trasgressori la sanzione minima sarà di 1.000 euro, anche i funzionari e professionisti a conoscenze di pagamenti illeciti saranno sottoposti a sanzioni. Grazie a tutti.